TETIS è una società di ingegneria a sede a Venezia, in Arsenale, ha circa 150 dipendenti e si occupa, tra le varie, anche di mobilità sostenibile. Offriamo tecnologia in diversi ambiti, in particolare per il trasporto su strada, il trasporto marittimo e il trasporto fluviale. Abbiamo disponibili diverse soluzioni per il monitoraggio del trasporto pubblico, integrato insieme con le altre modalità di trasporto, quindi in un'ottica multimodale. Pensiamo che le soluzioni, in particolare di infomobilità multimodali, siano un'ottima soluzione per la riduzione delle emissioni e l'incremento dell'efficienza del trasporto in generale.